Ma il disegno di Rachele è completo? Non ancora. Il volto ormai è completo, manca solo la bocca che faremo in questo video. Le labbra comunque da fare sono particolari, ci sono tre step. Base color, che è simile alla pelle, poi in questo caso rossetto e texture. Ora sì che il volto è completo, che bello. Ma sì, facciamo anche un po' di capelli dai, così ripasso un po' i colori da usare, anche perché sono troppi. La sua iconica frangetta sta prendendo forma. Fantastico. Io direi che per oggi va bene così. Alla prossima, ciao!